vedendo quello che stiamo assistendo fadelo perché poi questa puntata la impacchettiamo gliela mandiamo a casa direttamente a mago buble mago buble allora andiamoci a collegare con il nostro inviato da il peggiore negozio aspetta che c'è un attimo che ho fatto delle leggere modifiche e quindi queste cose dovrebbero sparire grazie siamo pronti rivediamo lo rivediamo le rivediamo tutti insieme poi aspetto i vostri commenti ok allora ragazzi già diciamo già già discorso serio deve dare allora oggi siamo al 23 agosto dico bene signor Irene si ci ha indovinato benissimo allora ragazzi vi do questa notizia poi giudicatela voi che vogliamo un vostro parere ovviamente che la notizia è una notizia con la n maiuscola abbiamo controllato tutte le uscite discografiche discografiche fino a natale usciranno tante cose di rock indipendente qualcosa delle major ma tutta roba comunque secondo me di basso livello secondo lui cominciamo da qua secondo lui è di basso livello però poi andate a vedere quello che esce che sponsorizza lui di altissimo livello andate a vedere su facebook andate a vedere su facebook i cd giapponesi degli a noi rocks grazie 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 insomma niente dei gay come si dice a roma niente classica usciranno dei cd la classica meno male diversi mazionati è sorprendente è che per la prima volta non uscirà nessun cd di jazz allora dove c'è non è che specifici dai miei distributori non uscirà un cd di jazz non uscirà un cd di jazz nel mondo non è che dice dove mi rifornisco io nessuno la lamiate poi andiamo a vedere perché adesso faccio faremo anche un parallelo perché sono andato anche a studiare gli altri negozi di roma zero e non si parla soltanto di di stappe ma anche di novità di nomi no ogni tanto asce qualcosa per gli ette indipendenti ogni tanto è nuovo qualche pianista qualche strastoponista nuovo a merda che ci ha fatto sentire l'altra volta nulla nulla praticamente la scelta delle case discografiche anche indipendenti anche indipendenti badate bene non si parla soltanto di universal o capito lo sto di music io parlo anche di indipendenti a riete piccole buongiorno lupo più suicidi di jazz allora io gli ho messo un link in nei commenti con ad esempio il cd che uscirà a ottobre di nubia amica lavora nubia e mi ha cancellato il commento perché non lo trovo più non c'è il cui un commento prenderla come vi pare questa notizia che dobbiamo darvi noi continueremo comunque a prendere aumenteremo anche gli ordini di jazz perché perché dischi del genere dischi del genere io vado di catalogo non possono sparire non non esiste non spariscono ma che vuol dire continueremo a prendere dischi di jazz nonostante nonostante la richiesta sia talmente esigua nel mondo perché questa è la verità perché se non vengono stampate novità di cd jazz di nomi nuovi vuol dire che la richiesta è pari a zero questa è la nuda e cruda verità il jazz come avevo previsto è tornato zaniax già sei morto già sei morto signori inteso come novità sono parlato inteso come novità perché se uno si deve comprare uno sconosciuto si compra un disco per seppur bravo lo sconosciuto è si compra un disco storico prima non vendono i cd poi sì però non fanno gli etichetti indipendenti non stampano i cd però molti stampano però non me lo non compro lo sconosciuto perché perché devo comprare quello ma che che io non capire che qualcuno mi aiuti a capire il senso di questo discorso nel frattempo c'è un messaggio audio sentiamo oramai si legge sempre tutto è il suo contrario e non ho ancora capito non avendolo ancora ascoltato per intero il reale valore di questo nuovo disco dei fontensi vorrei sapere ai fontensi dopo dopo ci arriviamo ai fontensi dopo ci arriviamo pensavo che fosse legato a a questo momento di dissing dopo ci torniamo allora lo ascoltiamo dopo rimarrà solo il catalogo rimarrà solo il catalogo ma dove allo serimento scotto e speriamo molto lontano al termine servimento scott però è una notizia doveva modali fino a natale non uscirà nessuna novità di jazz a casa sua 0 specifichiamo direvi voi voglio la vostra opinione poi non me la cago è tanto l'ho ragione io però non me la cago ed eccolo e maico pubblico e non è già si faccio rientrare ma col bubbi nel jazz signore rene signore sono quei musicisti indipendenti che fanno della musica se sono indipendenti fanno musica seria però però non so dove andare a cercare le cose indipendenti però quindi devo ascoltare il catalogo cioè quelli mainstream cioè no manco quelli mainstream quelli dei coltrain che però in questo momento evidente non ha più pubblico pubblico santo stefano se parte non c'è più pubblico e musica grazie andrea forse no che giovani e comploggiato che ne stanno pochissimi certo ieri è entrato un ragazzo che aveva a questo ma l'ero perso ma nemmeno si è compratto un vinile di sarra e sarra non è del club e con c'è un coltrain o no è sarra perché sarra perché ti amo ma che perché fai ancora i video allora andiamo a vedere i commenti il commento allora questo è quello che ha creato più più flames all'ultimo concerto di jazz da tenuto da trentenni dove sono andato da 58 n c'erano quasi tutti oltre 70 anni oltre 70 anni al 70 anni però c'era anche un quindicenne che faceva finta di essere in 3 n ma dove sei andato mauro colli non ce lo dice il però lui gli risponde ne ero sicuro perché lui ne sa proprio ne sa ne sa ne sa e al signor mauro colli gli dico prova a uscire dall'italia ma arriva arriva a gamba tesa il buon roberto da i granai zani è solo scappa che mi devi fare so conto e dai granai arriva arriva lui gli dice è uguale è uguale adesso vi faccio vedere come uguale un attimo un vi faccio vedere quanto è uguale per esempio ieri sono andato a dove sono andato bristol bristol international jazz bristol international jazz eccoci qua vediamo la pagina instagram del bristol international international jazz vediamo un po così a caso così vediamo quanti vecchi ci stanno in giro allora questi sono la gente che gira per bristol mamma mia guardate qua ci stanno sei vecchi qualche giovane un trentenne c'è anche un bambino c'è anche un bambino questo questo è quello che succede solo in un buco decu a bristol per dire cioè poi andate che ci sono su youtube ci stanno i video delle vaiva di video di fine manifestazione eccetera allora qua che dite intanto voi trentenni che suonano roba degli ottantenni probabilmente certo è un indovinello ma camasi che c'era solo lì in italia che fino a fatto camasi chi ma chi è l'ha trattato male ma che mi ha fatto prendere da feltrinelli lo dico da trattatore dei feltrinelli buongiorno docuone grazie per torno ritorno era rinnovo gionagliano joe allora aspetta andiamo avanti con con il il post li allora no ve li leggo perché così tanto allora almeno c'è sottofondo è uguale e io gli rispondo falso basta avere un minimo di polso delle scene jazz jazz in tutto il mondo almeno in gran bretagna se non vuoi fare troppa fatica ad esempio l'ultima edizione del mercury prize è stato vinto dagli esra collective che hanno un gran seguito in tutta europa se hai bisogno di consulenza caro robbie io ci sono così così e lui che cosa risponde ma quale scena se non c'è un cd distribuito concerti e parcoscenici sono un altro mondo ma che vuol dire questa frase quale scena se non c'è un cd distribuito quindi se tu non distribuisci cd presso i normali in uomo ma non c'è scena quindi tu vai non c'è scena non esiste scena attenzione perché adesso si parte lui annulla la scena ma adesso arriverà a annullare tutto ok quindi se gli indipendenti questo gli rispondo io non si affidano alla grande distribuzione ma all'autoproduzione oa band camp il jazz è morto e lui risponde esatto perché non c'è assolutamente richiesta quindi signori se non se non c'è richiesta di dischi in un negozio di roma nel buco di culo dell'euro dove cacchio sta quel posto la scena musicale è morta che arriva a gamba tesa il buon oblo movo come this coming news of the experience bad bad not good this is a collective nubia garcia the bad plus eccetera 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 per citarne qualcuno tutta gente che pubblica dischi e non post su facebook e oblo si merita l'applauso anche se oggi l'applausometro ha deciso di stare in ferie e che gli dico ma no signor oblo movo non so chi sia ma secondo me questi sono zombie o forse sono i negozianti vecchio stampo che non hanno più voglia di andare a cercare tra le etichette indipendenti e qui e qui e qui il nostro hobby è scomparso io per dirne una c'è il gaeta jazz festival in ultimi anni ha portato ad esempio rogge spa pure alfamista al gaeta a gaeta bravo hai capito ma poi ci sta pure qualcosa a pori a poretta terme ma devi vedere il pubblico i pubblici sono tutti vecchi no il fatto che non c'è nemmeno john zorn ci sta già storico e grava perché non ci dà nessuno negano non ci dà john zorn tutto il filone sons of comet the comet is coming met yourself down ma quello non è già sarà chissà che dai scusa e chissà che chissà che va però c'era un'altra cosa interessante che c'era un commento di lo stato stato a poi c'è questo il genio ascoltatore abituale la maggior parte dei nuovi jazzisti non fanno altro che ripetere quello che hanno già fatto i grandi del passato e allora perché compararci di noi musicali però se fanno cose diverse no questo non è jazz por quel demonio non sono jazz per lui è sicuro c'è ragione go one gente che campa ad estenti domi e gt beck che sono tue beck un jazz contaminato jazz contaminato e tanto a proposito fatemi fare il saluto di bentornato da parigi al nostro amico zanex andatelo chiaramente lo giallo seguite mandatelo a seguire e sostentare perché perché lui ha rischiato la reclusione in quanto non voglio anticipare nulla che poi dirà nella sua live però più o meno è stato avvicinato al fondatore di telegram lo stesso giorno abbiamo rischiato due arresti importanti dove sta l'oltre con l'unico commento interessante che c'era aspetta no questo questo è bello questo è bello lui gli fanno uno gli fa notare ma vendono sulle piattaforme online e robbie sentenza sentenzia sentenza non sono le piattaforme che ti danno da mangiare ma chi a te o al musicista tutto ciò questo è uno che se era un venditore di dischi normale io neanche c'è ragione devo vendere devo difendere la mia professione va bene ma quello mi faremo dire il chiccherone è che lui poi si vanta di essere un divulgatore musicale e di difendere la cultura la cultura niente io non trovo più quell'altro dove sta papà 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 come fa a sapere a eccolo michele saran michele saran che gli dice come fai a sapere che anche le formiche operaglie più interessanti del underground internazionale non faranno uscire niente da qui a fine anno e dai su robe e lui che gli risponde le formiche non conta non contano qui servono gli elefanti ma chissà gli elefanti adesso nel 2000 del jazz chissà chissà quelli poi dopo però le forme le cose indipendenti vabbè e luigi signori risponde certo infatti quasi una formica sforna un equivalente da una sinfonia non frega niente a nessuno giusto a me frega comunque perché sì perché siamo italiani italiani allora chiudiamo con la chiosa no qua interessano solo animali in velestensione la divulgazione dei cadaveri poi esci dai confini basta che ta faccia in svizzera trovi miriade di formiche informissima ed ora analizziamo il prossimo tema che ci ha lanciato chi era che mandato il vocale damigiana e lanciamolo con la prima canzone della playlist del lunedì ma se avete da commentare questa questa cosa questo discorso scrivete mandate vocali al numero in sovraimpressione grazie a tutti grazie a tutti